Una bella cosa. Io sono emozionato sempre perché è un lavoro che mi piace, una cosa che mi crea sempre dei battiti forti al cuore stare dentro lo spogliatoio e in un campo ad allenare dei calciatori. Qui, come dicevo prima, sono stato contento dal primo momento che poi mi è stato detto perché il Napoli è una squadra forte, la città è una città forte. Ho completato un po' il mio sur dell'anima perché poi ho allenato a Roma nella città del Papa, la città eterna, ho allenato a San Pietroburgo nella città degli zar, ho allenato a Milano che è la città della moda, la città dell'industria, c'è la Madonnina e ora allenerò il Napoli. Io a Napoli sono orgoglioso di venirci anche perché siederò sulla panchina dove ha giocato Diego Armando Maradona, nel campo dove ha giocato Diego Armando Maradona e poi il tour dell'anima perché qui ci ha giocato lui e anche la città di San Gennaro. È un po' la città dove il calcio e i miracoli sono la stessa cosa.